Oggi per presentarvi un master di stagione, la tutina che torna sempre protagonista e chi ce la fa vedere? La nostra Stefania nazionale, eccola qui, guardate quanto è bella, che fa la modella per me, ma chi l'avrebbe mai detto? Ma perché noi ti vogliamo bene Marco, io ti amo! Ehi, esagerato, ti mi sosteniamo male, ciao!